Furto nella notte di Natale tra il 24 e il 25 dicembre all'interno dello studio del noto gruppo musicale dei Negrita. Ci troviamo a Castelnuovo di Subbiano e quindi nel primo comune del Casentino. In tutto 5 le chitarre, alcune acustiche, altre elettriche ed un mixer rubati al noto gruppo musicale. La notizia è stata diffusa da uno dei componenti della band Enrico Salvi, Drigo per i fans. Sul suo profilo Facebook e Instagram la sera di Natale, un appello accorato da parte dell'artista. La scorsa notte scrive mi sono state rubate due chitarre, sottrarre ad un musicista il suo strumento equivale a mutilare una persona di un arto. Sorvolo sul dolore che è cosa mia domani, cercherò le mie foto e posterò insieme a qualche dettaglio, lo farò su consiglio di amici, mi dicono che potrebbe aiutare. In realtà il gruppo ha poi deciso per il silenzio stampa, sul caso indagano i carabinieri. A poche centinaia di metri dallo studio di Negrita, un altro colpo ha messo a segno ai danni di un ristorante, il secondo nel giro di una settimana. Niente, hanno fatto un furto proprio da ladri dei polli, perché hanno preso delle bottiglie di vino, tra le altre cose hanno preso quelle che costavano meno. L'unica cosa di valore, per me affettivo, hanno preso degli orologi che erano del nonno, però con poco valore. E' un mixer, un mixer per mettere la musica. La volta prima, perché io ne ho avuti due dei furti, uno la domenica e uno il giovedì. La volta prima hanno portato via il cassetto e anche qui proprio ladri dei polli, perché c'era la chiave, potevano prendere quello che gli serviva invece di fare il danno. Se finora era un paradiso, ora questo non è tanto più un paradiso. I malviventi avrebbero tentato anche un terzo colpo la notte di Natale, sempre a Castelnuovo. Questi sono i segni del tentativo. Stavolta avevano preso di mira un pub, ma l'allarme le ha messi in fuga.